Se a Milano si dovessero superare i 100 casi positivi al giorno, il sistema di tracciamento potrebbe entrare in crisi. A sostenerlo è il direttore dell'azienda sanitaria territoriale della metropoli Lombarda, che dopo la fine del lockdown e le vacanze estive, attende ora con qualche apprezzione la riapertura delle scuole. Ogni caso positivo infatti mette in moto una complessa catena di controllo. È l'identificazione di tutti i contatti stretti, tutte le persone che si potrebbero essere contagiate vivendo vicine a questo caso che abbiamo identificato. E questo si fa con un'inchiesta epidemiologica che è un'intervista. Il problema di questi mesi è che quando siamo partiti con la tracciatura le persone erano chiuse a casa e i contatti da identificare erano pochissimi. Adesso le persone vanno in vacanza, vanno a lavorare, escono e quindi il numero di persone da identificare e sostanzialmente poi sottoporre a tampone perché questo è il destino poi del contatto che viene identificato è diventato molto numeroso. Le inchieste epidemiologiche richiedono quindi tempo e risorse e anche se i 100 casi di coronavirus al giorno costituiscono solo una soglia critica indicativa è utile per richiamare tutti a non abbassare la guardia. Noi faremo di tutto per attrezzarci e avere tanti intervistatori per la tracciatura però se è possibile, se continuiamo a mantenere gli atteggiamenti di prudenza è facile che questi 100 casi non arrivino mai e questo sarebbe un bene per tutti.